Quello della ricerca di un alloggio non deve essere un fattore di complicazione. I sindaci dell'Alpago lanciano un appello ai proprietari di case sfitte perché manifestino la loro disponibilità ad accogliere come inquilini gli operatori sociosanitari potenzialmente interessati a lavorare nella casa di riposo di Puos, gestita dall'Unione Montana, dove la carenza di queste figure sta diventando un problema. La struttura, fortemente danneggiata dall'alluvione di dicembre 2020, è tornata da qualche mese alla piena operatività. La gestione è affidata alla cooperativa Itaca di Pordenone che cerca figure aggiuntive da inserire in organico in modo da poter arrivare anche alla piena operatività della casa di riposo per far sì che venga raggiunta la piena occupazione dei posti letto. Dato che la ricerca si spinge anche fuori dall'Alpago, per i lavoratori in arrivo potrebbe risultare più comoda una sistemazione in zona. Di qui l'appello dei sindaci dell'Unione Montana ai proprietari di case affinché segnalino la propria disponibilità alla locazione. Si ricerca la disponibilità di alloggi con almeno due camere destinati ad ospitare 3-4 persone, si legge in una nota. Sarebbero preferibili alloggi distanti circa 15 minuti da post dal pago e raggiungibili da strade agevoli. Il contratto di affitto verrebbe effettuato direttamente con la cooperativa che attualmente gestisce il servizio a Puos.